Tutti noi mani, insieme iniziamo dai scelitori della sposa Dino e Anna, sono mani! Tutti noi mani, sono mani, 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 insieme a tutti voi! L'intero è speciale sprint e adesso ordiniamo, cerito risposto, paghiamo, Anna e Anna, sono mani! E adesso, le mani su, con le decennie, Cristiano, Giada, Giada e Francesca! Soproni! Soproni insieme, l'ingresso sprint che piaccia da noi, ai mani, mani, si si diverte! E adesso ragazzi, le mani su, con i decennie, Valerio, Roberto, Luca e Pietro Soproni! Soproni insieme, l'ingresso sprint che piaccia da noi, ai mani! Soproni insieme, l'ingresso sprint che piaccia da noi, ai mani! Soproni insieme, l'ingresso sprint che mi accende, l'ingresso di fronte, lui, ai mani! Grazie a tutti.